Quello che abbiamo presentato oggi in farmacia Redi e farmacia Bettinazzi qui ad Arco è un servizio innovativo per preparare le terapie dei pazienti. Con il servizio sicuro, che è il nome del servizio, si passa dal vecchio portapillole a delle bustine che sono personalizzate su misura per il paziente. In ciascuna bustina ci sono i farmaci che il paziente deve prendere un certo giorno a una certa ora. Oggi abbiamo conosciuto questo progetto innovativo del dottor Tamanini e della farmacia qui ad Arco dove vengono ingustati singolarmente giorno per giorno i medicinali per dei pazienti cronici. È sicuramente un progetto innovativo che come assessorato e come azienda possiamo prendere in considerazione e valutare in quanto può essere la soluzione per dare più garanzia ai malati cronici di seguire la terapia completa soprattutto senza quindi il rischio di dimenticarsi di prendere il farmaco oppure addirittura di prenderlo due volte come spesso purtroppo accade. Su ciascuna bustina è riportato il nome del paziente, l'ora, il giorno di assunzione e il contenuto dei farmaci all'interno della bustina. Quindi la persona trova la sua terapia pronta per i giorni e per gli orari in cui la deve assumere. È un sistema semplice, è un sistema sicuro, è un aiuto molto importante per i pazienti che hanno terapie croniche.